L'esposizione, ricordiamo, solo delle aziende Umbre arriva a circa 30 milioni di euro e alcune di esse ha un'esposizione intorno ai 5-6 milioni di euro. Quindi da questo punto di vista ci rendiamo conto che la situazione è, da un lato, gravissima per le aziende fornitrici di materiali e per le aziende che hanno messo mano d'opera. Dall'altro è gravissima perché siamo di nuovo in presenza di un'interruzione dei cantieri, noi in particolare scontiamo l'ultimo tratto Umbro che è quello che va da Fossato di Vico a Fabriano e soprattutto l'appalto e l'inizio dei lavori relativi al raddoppio del tratto da Casa Castalda a Valfabbrica. È un'opera completamente finanziata, i soldi ci sono ma per poter essere messi a disposizione servono tutta una serie di garanzie e tutta una serie di lavori fatti. Mi ricordo che Perosino ci disse che noi abbiamo messo a disposizione alcuni milioni di euro di astaldi per il pagamento di quei stracci ma probabilmente quei soldi non sono andati alle ditte che hanno fatto i lavori ma sono stati assorbiti completamente dalle banche in conseguenza dei crediti che le banche avevano nei confronti di Astaldi. La Quadrilatro doveva essere il momento per poter valorizzare un territorio e far lavorare le nostre imprese e quindi arricchire anche dal punto di vista del lavoro e dell'occupazione questo territorio. Invece si sta dimostrando ancora una volta un problema anche proprio di sopravvivenza delle ultime imprese che ancora hanno dato fiducia a questa ulteriore azienda perché era un'azienda strutturata, un'azienda importante. Si dice in questi giorni di un interessamento della più grande azienda italiana che è l'azienda Impregilo che vorrebbe in qualche modo rilevare ancora una volta gli appalti e i contratti di Astaldi. Credo che sia un ulteriore passo in avanti ma ormai veramente la fiducia è agli sgoccioli. Grazie. Grazie.